Siamo quasi pronti per iniziare, innanzitutto grazie di essere qui, siete benvenuti, volevo giusto parlarvi velocemente della nostra associazione se non ci conoscete, noi siamo nati, l'associazione Giorgio Orwell è nata da meno di un anno, l'inverno scorso, siamo giovani e giovanissimi, abbiamo un liceale tra di noi, insomma dai ventenni ai trentenni, quindi siamo super giovani e il nostro scopo era di svegliare un po' le coscienze nella città di Ancona, ci piace definirci un'associazione culturale eretica, antisistema e controcorrente, in questi pochi mesi siamo riusciti a portare in città, in Ancona, Diego Fusaro, abbiamo portato Matteo Simonetti che è uno scrittore che è anche qui di Potenza Piccena e anche grazie a altre associazioni siamo riusciti comunque ad organizzare dei bellissimi eventi, continueremo a organizzare altri eventi, iniziamo questa nuova stagione con Fabio Fonditi, un applauso. Abbiamo deciso di parlare di un tema che penso che sia il tema dei temi, la moneta, soprattutto cosa vuol dire avere la sovranità monetaria, penso che questo tema sia importantissimo e penso che vi rendete conto quali sono i problemi della moneta e perché è un tema importante. Sabato scorso personalmente sono stato alla manifestazione che si è tenuta a Roma, liberiamo l'Italia, non so se forse altri di voi erano lì, è stata una bellissima manifestazione e penso che i tempi sono maturi anche per portare il tema della sovranità non solo negli ambienti tradizionalmente quando uno parla di sovranità subito viene in mente la destra, la destra politica, ma in realtà la sovranità è assolutamente un tema bipartisan, quindi non è né di destra e infatti la nostra associazione è nata proprio anche per questo motivo, per superare la vecchia dicotomia destra-sinistra e concentrarci sulle lotte sia culturali, politiche e sociali che fanno parte di tutta la popolazione, quindi vogliamo parlare a tutta la popolazione e non siamo assolutamente etichettabili in nessun modo. faccio giusto un piccolo appello, siamo giovani, giovanissimi, non abbiamo nessun appoggio economico da nessuna istituzione, quindi ci tengo comunque ad invitarvi se potete lasciarci un'offerta, noi riusciamo solo ad andare avanti grazie al vostro aiuto, dopo l'evento ci sarà un piccolo aperitivo offerta libera, quindi ci aiuterà a riuscire ad avere un aiuto economico per organizzare altri eventi e portare altri ospiti. e niente, è tutto qui, lascio la parola a Fabio Conditi. Grazie. Si può spegnere la luce? Grazie. Allora io intanto vi presento, sono Fabio Conditi, sono il presidente di un'associazione che si chiama Maneta Positiva, anche noi siamo senza scopo di lucro e cerchiamo di diffondere nella popolazione l'idea che i problemi che abbiamo di carattere economico possono essere analizzati e risolti in maniera diversa e anticonvenzionale rispetto a quella che viene fatto nell'attuale discussione politica e economica. Oggettivamente il problema monetario, il problema economico è quello più importante di tutti, è quello da cui dipende la vita di tutti quanti noi, ma se ci pensate bene è l'oggetto che viene meno trattato nelle discussioni politiche, cioè la moneta è la cosa più ignota nelle discussioni politiche, è quello che manca, è quello per intendersi che in questo momento l'attuale governo sta cercando di raschiare il fondo del barile alla ricerca degli euro rimasti nei meandri dei vari bilanci, che sta cercando di aumentare le tasse, perché che ce ne dicano, le tasse aumenteranno, perché per trovare i soldi nella idea attuale l'unica modalità è aumentare le tasse, non ci sono altre strade, nessuno ci racconta che i soldi si creano e che i soldi possono essere creati, anzi vengono creati anche oggi in grandissime quantità, ma non vengono creati per l'economia reale, per la vita dei nostri, tutti quanti i giorni, ma vengono creati solo per poche persone e non per tutti. Per cui io avevo preparato tutto un discorso che è il classico che noi facciamo, iniziando dall'analisi delle cause, dai motivi culturali, psicologici, con i quali bisogna poi affrontare questa problematica, poi venendoci in macchina ho detto ma perché devo cominciare come sempre? In fondo io sono un ingegnere, io sono abituato a costruire, a progettare case, quando un cliente viene da me e mi dà la progettare una casa, normalmente la prima volta che lo incontro non è che gli spiego come sono fatte le fondazioni, come sono fatte le strutture, come sono fatti gli impianti, la prima volta che incontro il cliente lui vuole vedere l'immagine di come viene la casa, a lui non gli interessa come sono fatte le fondazioni, allora ho detto ma perché non proviamo oggi a fare un esperimento? Provo a partire dalla coda, noi normalmente facciamo tutta l'analisi per arrivare fino alle soluzioni, oggi vi propongo un meccanismo al contrario, prima vi faccio vedere le soluzioni e poi andiamo a fare le analisi sul sistema, sul perché questo sistema non funziona, tanto secondo me tutti voi sapete che il sistema così com'è non funziona, quindi è inutile che io vi spieghi perché non funziona, magari non avete chiaro l'idea, ma che non funzioni lo sappiamo tutti. Proviamo prima ad analizzare quali sono le soluzioni per uscire da questa crisi, fate diciamo il minimo di, abbiate un po' di fiducia, nel senso che io non vi spiegherò perché queste soluzioni sono realizzabili, perché ve lo spiegherò dopo, per adesso vi faccio vedere come si potrebbe strutturare la società in maniera completamente diversa da quella che è attualmente. Quello che vogliamo fare è come fare per progettare e realizzare un futuro diverso da quello che ci stanno proponendo, perché quello che ci propongono è un futuro nel quale noi siamo sostanzialmente schiavi, schiavi nel sistema nel quale le tasse aumentano sempre di più, il debito costringe a fare sempre politiche d'austerity, mascherate sotto tutta la maniera, prima tassavano i guadagni, adesso tassano le merendine, quindi noi ci ritroviamo che la soluzione è sempre quella, aumentare la tassazione in tutte quante le maniere. Che la situazione non può più andare avanti, in realtà lo stanno dicendo anche ai livelli più alti del sistema. Christine Lagarde sarà la prossima presidentessa, presidente della Banca Centrale Europea, nel suo discorso di insediamento per essere proposta, quindi prima che venisse votata, ha fatto un discorso nel quale, guardate le cose che ha detto, la prima cosa è che dice che la BCE deve ascoltare e parlare con i mercati ma non farsi guidare da essi, cioè questa è la prima volta che un presidente di una banca centrale fa un'affermazione del genere, fino ad oggi i presidenti delle banche centrali si sono mossi sempre su sollicitazioni dei mercati finanziari. Ma la cosa più straordinaria, l'ha detta dopo, deve anche ascoltare e comprendere le persone perché in fin dei conti la moneta è un bene pubblico che appartiene alla gente, cioè sentire la Lagarde dire che la moneta appartiene alle persone fa venire in mente una domanda, ma se i soldi sono i nostri perché ce li prestano? Che sarebbe una domanda lecita, per quale motivo se sono i nostri noi finiamo per dover pagare degli interessi su tutta la moneta che usiamo. Ma la cosa più straordinaria è che anche Mario Draghi, poi perché probabilmente è a fine incarico e sta cercando di collocarsi per futuri e nuovi incarichi, ha fatto delle affermazioni rivoluzionari per la prima volta. Fino ad oggi, secondo Mario Draghi, le politiche monetarie della Banca Centrale Europea avrebbero risolto qualunque problema. Fino a qualche anno fa lui diceva che faremo qualsiasi cosa che sia necessario per risolvere i problemi dell'economia. Oggi dichiara invece che la politica monetaria da sola è insufficiente a far ripartire inflazione e crescita dell'eurozona. Questa è una missione di impotenza, cioè tutto quello che è stato fatto fino ad oggi non è bastato. Noi abbiamo fatto il nostro, ora tocca ai governi. La politica fiscale deve diventare lo strumento principale per aumentare la domanda interna. Fino ad oggi ci avevano ingannato dicendo che con il quantity missing sarebbe aumentata la domanda interna e quindi l'infrazione. Sono dieci anni, cinque anni che fanno il quantity missing e l'infrazione è rimasta invariata. La domanda interna tende a calare. E quindi il fatto che lui ammetta questo errore e ammetta che devono essere gli stati a dover fare politiche fiscali è un evento straordinario. Ma la cosa ancora più straordinaria è che a un certo punto il giornalista gli chiede perché non pensate di fare l'elicotter money. L'elicotter money è una corrente di pensiero che ipotizza che la banca centrale crei il denaro e lo distribuisca direttamente ai cittadini. Quindi non per comprare titoli di stato come il quente di rischio, ma darlo proprio in mano a tutti quanti i cittadini. Lui ha risposto a questa domanda, dice su queste possibili misure dell'elicotter money, ha detto consegnare soldi alle persone rappresenta una politica fiscale, non monetaria. Cioè intende che creare soldi e distribuirlo ai cittadini non è un compito che spetta alla banca centrale europea, ma è un compito che spetta agli stati, perché gli stati hanno le politiche fiscali. Questa cosa è straordinaria perché fino ad oggi si è sempre pensato che gli stati non avessero capacità di creazione dei monetari. Mentre invece Mario Draghi ha ammesso che invece sono gli stati quello che lo possono fare, invece la banca centrale europea non lo può fare e ha ragione. Quindi si deve creare moneta per l'economia reale, questo è l'obiettivo se vogliamo risolvere davvero il problema. Le aziende sono strozzate, le aziende sono costrette a licenziare, aumenta il numero dei suoccupati, aumentando il numero dei suoccupati cala la domanda interna e quindi tendenzialmente l'economia va in recessione. Quindi se non immettiamo soldi nell'economia non riusciremo a risolvere il problema. Da un anno a questa parte, siccome i soldi vengono creati sostanzialmente con il credito bancario, il credito bancario alle imprese è calato di 70 miliardi in Italia. Cioè significa che ormai le imprese sono arrivate che manca completamente l'ossigeno. Allora, come possiamo fare per creare denaro e rimetterlo direttamente in economia reale? Visto che Mario Draghi ha ammesso che lui non riesce a farlo. Siamo andati a guardare nella Costituzione italiana che cosa c'è scritto. Qui parliamo di sovranità, di esercizio di sovranità monetaria e fiscale. Chi è che è il titolare della sovranità all'interno dello Stato italiano? Articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Non appartiene a nessun altro, non appartiene al governo, al Parlamento, a nessuna delle istituzioni pubbliche. Appartiene al popolo. E quali sono le due sovranità più importanti? La sovranità monetaria e la sovranità fiscale. Quindi queste due sovranità appartengono solo a noi e quindi indirettamente allo Stato. Poi lo Stato ha la possibilità di fare strumenti, di adottare strumenti di politica economica. Quali sono gli strumenti di politica economica più importanti? Sono due, le politiche monetarie che oggi sono state cedute alla Banca Centrale Europea, quindi non sono più di competenza dello Stato. E poi le politiche fiscali, che come diceva Mario Draghi, sono di competenza ancora dello Stato. Ma se è vero che la creazione di moneta e distribuirla ai cittadini fa parte delle politiche fiscali, ecco che capiamo perché la nostra Costituzione non è stata violata. La nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo e lo è ancora, nonostante i trattati che sono stati firmati. Andiamo a vedere che cosa dicono i trattati europei. Intanto la sovranità monetaria, abbiamo detto, appartiene allo Stato e quindi al Ministero del Tesoro. La sovranità monetaria significa potere, diritto esclusivo di uno Stato di creare moneta. Cioè creare moneta. Perché diciamo che appartiene allo Stato questa sovranità? Perché se andiamo a guardare l'articolo 117 della nostra Costituzione, che è stato modificato nel 2001, quindi dopo che eravamo entrati nell'euro, dopo che eravamo entrati, diciamo, che avevamo firmato i trattati europei, c'è scritto che lo Stato ha la registrazione esclusiva nelle seguenti materie, appunto è moneta, tutela dei risparmi e mercati finanziari. Quindi lo Stato ha ancora la sovranità monetaria. Quello che abbiamo ceduto sono le politiche monetarie, che sono l'insieme degli obiettivi, strumenti, interventi che modificano e orientano la moneta, il credito e la finanza. Questo è definito soprattutto dall'articolo 128 del TFOE, in cui si specifica che la BC ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote. Quindi la capacità di creazione della BCE in termini monetari è solo la creazione di banconote, perché ad esempio le monete metalliche, segue il secondo comma dello stesso articolo, gli stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume di conio. Quindi noi comunque abbiamo le monete metalliche che sono ancora monete metalliche nazionali, tant'è che se voi guardate le vostre tasche ci sono monete italiane, francesi, tedesche e via dicendo. E possiamo addirittura emettere monete superiori a 2 euro, da 5, da 10 euro, come sta facendo la Germania, la Finlandia e altre nazioni da diverso tempo. Dal sito della Banca d'Italia, in merito proprio al signoraggio, è specificato ulteriormente. Oggi il signoraggio viene percepito in prima battuta dalle banche centrali, le quali tuttavia lo risversano poi agli stati, che sono i titolari ultimi della sua moneta monetaria. Il signoraggio, voi sapete, è il rendito derivante dall'emissione monetaria, cioè se io emetto una qualsiasi moneta, tutto ciò che guadagno in termini di questa emissione è di mia competenza, se diciamo ho il signoraggio. Oggi il signoraggio sull'euro, contrariamente a quello che noi possiamo pensare, in realtà viene comunque girato agli stati, con questo meccanismo. Le monete metalliche, il signoraggio della proprietà appartiene allo Stato, quindi lo Stato quando coni a monete metalliche percepisce direttamente il reddito monetario che ne deriva. Sulle invece le banconote, quello che vi sto dicendo sono risposte che ha dato Only Rain a un'interpellanza di Borghezio nel 2011, nel quale gli è stato chiesto di chi è la proprietà dell'euro. E Borghezio e Only Rain dovette rispondere per conto della Commissione Europea in maniera chiara e specifica su chi è proprietario dell'euro. E lui ha detto che le monete metalliche sono di proprietà degli stati, che percepiscono anche il signoraggio. Mentre invece le banconote sono di proprietà della Banca Centrale Europea, la quale percepisce il signoraggio e come dice Banca d'Italia, il signoraggio poi viene girato alle banche centrali nazionali e dalle banche centrali nazionali viene girato allo Stato. Quindi anche sulle banconote il signoraggio comunque viene girato agli stati, perché gli stati sono gli unici che hanno la sovranità monetaria. Quello che sfugge agli stati è la moneta bancaria, perché la moneta bancaria è una moneta elettronica molto particolare che viene emessa dalle banche private quando ci concedono prestiti, perché contrariamente da quello che dicono i libri, quando una banca concede un prestito non è che quei soldi li prende da qualche altra parte, non li prende dai depositi dei clienti, non li prende sottoterra, li crea letteralmente dal nulla e ce li presta. Poi noi siamo obbligati a restituirle, però quel denaro viene creato letteralmente dal nulla. Ora, il signoraggio su questa creazione monetaria, che è poi l'interesse che noi paghiamo, in realtà viene comunque pagato alle banche private e non viene girato agli stati, per un giochino per il quale si nasconde il fatto che le banche private creino il denaro. Nell'accezione generale il denaro viene creato solo dalle banche centrali e dagli stati, ma nessuno, oramai è chiaro e lampante, perché lo hanno detto anche diversi studi di anche diverse banche centrali, che sono le banche private quelle che creano la maggior parte del denaro e non certamente gli stati. Quindi, se la sonorità monetaria e fiscale appartiene agli stati, la domanda che noi ci siamo posti e alla quale abbiamo cercato di rispondere è che cosa può fare lo Stato per creare denaro e metterlo direttamente nell'economia? Allora, abbiamo visto che lo Stato non può fare banconote, perché le banconote per l'articolo 128 del TFUE spettano alla Banca Centrale Europea. Lo Stato però può coniare monete metalliche, e abbiamo detto anche monete metalliche superiore a 2 euro, tant'è che l'anno scorso è stata emessa una moneta con la scritta Repubblica Italiana da 5 euro, una moneta cosiddetta da collezione, che commemorava la cattedrale di Amatrice che purtroppo è stata distrutta dal terremoto, e questa moneta è una moneta di proprietà dello Stato italiano, e quando lo Stato conia una moneta del genere il reddito che ne deriva è di sua pertinenza. Poi lo Stato potrebbe fare biglietti di Stato, se vi ricordate quando c'era la lira lo Stato emetteva le 500 lire con la scritta Repubblica Italiana che erano una moneta effettivamente emessa dal Ministero del Tesoro, e quindi non è una moneta emessa dalla Banca d'Italia, ma soprattutto lo Stato potrebbe, se avesse delle banche pubbliche, emettere una moneta elettronica bancaria, come fanno le banche private. In particolar modo il sistema oggi funziona in questa maniera, la Banca Centrale Europea emette le banconote che vengono prestate alle banche private, le quali poi creano l'ulteriore moneta elettronica bancaria, quella che viene utilizzata quando ci vengono concessi dei prestiti, e forniscono quindi la moneta al sistema economico dove ci sono cittadini, aziende e anche lo Stato, perché anche lo Stato poi la moneta la prende in prestito dai mercati finanziari. Ora, se noi in un sistema come questo, lo Stato paga interessi sul debito pubblico, che sono circa 70 miliardi di euro all'anno, invece noi cittadini abbiamo un debito privato molto più grande rispetto a quello pubblico e paghiamo circa sui 130 miliardi di interessi all'anno. Quindi noi ogni anno paghiamo qualcosa come 200 miliardi di interessi all'anno sul debito pubblico e sul debito privato. Se lo Stato utilizzasse un sistema di banche pubbliche, come ad esempio c'è la Germania, noi avremmo che il 50% di tutta la moneta che viene creata dal sistema bancario, verrebbe creata dal sistema bancario pubblico e quindi gli interessi che noi paghiamo a questo sistema verrebbero percepiti dallo Stato direttamente. Quindi, se in questa maniera noi avremmo la possibilità di risparmiare una fetta consistente degli interessi che paghiamo tutti gli anni, oltre al fatto che sarebbe possibile destinare questa moneta all'economia reale direttamente. Siccome tutti sono convinti che le banche pubbliche non ce le abbiamo, in realtà noi abbiamo scoperto che una banca pubblica completamente ce l'abbiamo, che si chiama la ex banca del Mezzogiorno, Cassa del Mezzogiorno, che si chiama MCC oggi, Medio Credito Centrale. Questa banca è di proprietà del 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi potrebbe essere tranquillamente utilizzata per fare investimenti nell'economia. Pensate che sono ormai due governi, sia quello scorso Movimento 5 Stelle e Lega, che quello attuale Movimento 5 Stelle e PD, che nel loro programma mettono una banca pubblica per gli investimenti. Eppure la banca pubblica ce l'abbiamo già, quindi non ci sarebbe neanche bisogno di metterla nel programma perché basterebbe utilizzare quella che c'è. Abbiamo anche l'84% della Cassa Deposito e Prestiti, che quindi potrebbe anche questa essere convertita a una banca di questo genere e abbiamo anche il 68% del Monte dei Paschi di Siena. Quindi in realtà non sarebbe molto difficile creare un sistema di banche pubbliche come la Germania per cercare di fare investimenti nell'economia reale, eppure questa cosa sembra difficilissima da poter fare. L'ultima possibilità che lo Stato ha di creare denaro e di metterlo direttamente nell'economia, e è per noi la nostra proposta più interessante, è quella di creare uno strumento fiscale che sia utilizzabile per gli scambi. Come funzionerebbe? Noi l'abbiamo chiamato Sire e è per noi l'uomo di Colombo, cioè mette d'accordo le esigenze dell'Italia, che possono essere l'abbassamento delle tasse, l'occupazione, il sviluppo economico, il re di cittadinanza, qualunque manovra espansiva che si possa fare nell'economia, con i vincoli di villaggio della Unione Europea. Come fa a mettere d'accordo queste due cose? È semplice, siccome lo Stato ha la sovranità fiscale, ha la capacità e il potere di imporre tasse e anche concedere detrazioni e crediti d'imposte. Qualcuno di voi ha mai usato le agevolazioni fiscali per le istruzioni edilizie, oppure per l'acquisto di mobili, per l'acquisto di elettrodomestici, eccetera. Ora, come funzionano queste agevolazioni? Che normalmente ti vengono concesse, ma tu devi aspettare gli anni successivi per poterle detrarre dalle tasse e quindi fondamentalmente rimangono congelate in un cassetto, non possono essere utilizzate per scambiarlo con le persone. Se invece lo Stato dicesse queste agevolazioni che io concedo ai cittadini, te le metto su un conto corrente fiscale e ti do la possibilità di scambiarlo con altre persone. Siccome sono effettivamente i crediti che io posso utilizzare per pagare le tasse sarebbero accettati da tutti in cambio al posto degli euro e quindi potrebbero effettivamente dare un impulso all'economia notevole. Considerate che oggi le agevolazioni fiscali ammontano circa 10 miliardi all'anno, ma sono fermi lì, non possono essere utilizzati. Se questi 10 miliardi circolassero perché le persone hanno la possibilità di poterseli scambiare potrebbero generare un aumento della domanda interna e comunque un aumento del PIL. Pensate a quante ce ne sono, ci sono per le costruzioni di lizi, sono parecchie tipologie. Queste riduzioni potrebbero essere dichiarate trasferibili e utilizzabili con una data di validità ad esempio di due anni, invece che darlo frazionato in 5 anni, in 10 anni, eccetera. Uno dice, bene i primi due anni non le puoi utilizzare, ma alla fine dei due anni le puoi utilizzare per detrarle le tasse. Però fin da subito le puoi utilizzare per scambiarle tra le persone. In pratica, quando lo Stato concede questa agevolazione, il cittadino che la riceve non può detrarla subito dalle tasse, ma può trasferirla come mezzo di scambio, come strumento di pagamento a qualcun altro. Tra l'altro caricata su una carta di credito diventa anche piuttosto semplice perché basta passarla sul post, quindi è abbastanza semplice. Poi la persona che la riceve la scambia a sua volta e a ogni scambio noi avremmo l'aumento delle tasse che paghiamo allo Stato, perché ovviamente ogni scambio corrisponde anche a un pagamento dell'IVA, pagamento dell'IRPEF, dell'IRPEC, eccetera. Quindi quando si arriva alla scadenza dei due anni, io ho che questa moneta ha già generato un aumento degli incassi delle tasse da parte dello Stato che permette di compensare quella riduzione che dopo due anni sarebbe fatta. In pratica è un credito fiscale che praticamente lo Stato avrebbe come minore incasso dopo due anni, ma noi cittadini lo potremmo utilizzare fin da subito per scambiarci da parte dello Stato. La cosa funzionerebbe in maniera semplice, il Ministero dell'Economia delle Finanze. Tutte le cifre che transitano su questi conti correnti potrebbero essere scambiati tra di noi semplicemente con una carta di credito, oppure con bonificio online, come facciamo oggi per il credito bancario. E quindi questa moneta aggiuntiva, chiamiamola moneta fiscale, strumento fiscale, sarebbe ad accettazione volontaria, quindi non è obbligatoria, ma considerate che anche la moneta elettronica bancaria, quella che noi usiamo tutti i giorni, che pensiamo che sia ad accettazione obbligatoria, in realtà è accettazione volontaria anche quella, cioè non è l'unica moneta a corso legale, solo le banconote e le monete metalliche, tutto il resto è moneta ad accettazione volontaria. Quindi questo si inserirebbe all'interno delle monete ad accettazione volontaria. Noi l'abbiamo anche disegnata come carta di credito, sarebbe una carta di credito che potrebbe avere anche una doppio uso, quello come conto corrente fiscale, ma anche come conto corrente bancario pubblico e quindi attraverso il medio credito centrale la stessa carta potrebbe gestire sia il conto corrente della banca pubblica che il conto corrente presso il MEF, e in questa maniera io posso decidere se pagare con il Sire o se pagare in Euro e quindi avrei la doppia possibilità di poterla utilizzare indifferentemente. Come funzionerebbe? funzionerebbe che da una parte noi abbiamo le monete a corso legale, che oramai sono solo monete metalliche e banconote, che sono circa il 7% di tutta la moneta che usiamo, poi in realtà la maggior parte della moneta che usiamo è la moneta elettronica bancaria, che è più del 90% di tutta la moneta che usiamo, che è gestita quindi dalle banche private. Ora, noi affiancheremmo a questa moneta una moneta creata dalle banche pubbliche, che poi verrebbe chiamata credito bancario pubblico, e una moneta gestita direttamente dal MEF che sarebbe un credito fiscale. Quindi sono tutti i crediti che potrebbero circolare ed essere utilizzati per scambiare beni e servizi. In questa maniera noi potremmo davvero rimettere in modo l'economia senza fare debito, perché in nessuno dei due casi questi tipi di monete creano debito. Siccome oggi siamo in un circolo vizioso nel quale gli interessi sul debito che lo Stato deve pagare per forza di cose lo costringono a chiedere più soldi per le tasse e a ridurre le spese, ma facendo così, con queste politiche rafferiti, noi otteniamo l'obiettivo opposto a quello che vorremmo raggiungere. Perché se io aumento le tasse, riduco le spese e addirittura privatizzo quei pochi beni che abbiamo, noi abbiamo una situazione nel quale la domanda interna cala sempre di più. Perché chiaramente le aziende sono più in difficoltà, sono costrette a ridurre gli stipendi o addirittura licenziare, ma se licenziano e riducono gli stipendi guadagnano meno e pagano meno tasse. Quindi in realtà si innesca un circolo vizioso per il quale le manovre politiche di austerity non fanno altro che peggiorare le cose rispetto alla situazione attuale. Quello che dobbiamo innescare e quello che vogliamo innescare con quelle soluzioni che vedevamo prima è un circolo virtuoso nel quale creando uno strumento monetario che non genera debito e quindi non è a rischio, cioè non crea problemi nei bilanci dello Stato e nelle parametri europei perché non genera debito, è un debito futuro, non è un debito attuale. Io metto in circolazione una moneta e creo maggiori investimenti produttivi e maggiore occupazione. Questa manovra mi permette di aumentare la domanda interna, di aumentare il PIL, di permettere all'economia di rinascere e quindi di ridurre il rapporto debito-PIL, quindi molto meglio di quello che facciamo oggi che praticamente riducendo il debito non facciamo altro che aumentare il rapporto debito-PIL. Questo sarebbe un circolo virtuoso. Quindi per sviluppare l'economia la nostra ricetta sarebbe quella di istituire un sistema bancario pubblico con quelle che abbiamo rimettendole a posto e facendole funzionare davvero, un po' come arrivamo circa 30 anni fa, se vi ricordate c'era un sistema bancario pubblico che era davvero importante in Italia, che è come quello che c'ha la Germania, perché la Germania ha più del 50% di banche pubbliche e il sistema bancario pubblico è importante perché finanzia direttamente l'economia reale, mentre le banche private sono più incentivate a finanziare l'economia finanziaria e non quindi l'economia reale, le banche pubbliche dovrebbero avere proprio come finalità quella di finanziare l'economia reale, quindi non fare speculazioni finanziarie. Poi lo Stato dovrebbe creare una moneta parallela, chiamiamola moneta fiscale, chiamatela come volete, ma comunque di creare uno strumento monetario, come dice Mario Draghi, che permetta di dare soldi direttamente ai cittadini, cosa che lui e le banche centrali non riescono a fare. Poi bisognerebbe tenere sotto controllo il debito pubblico e questo si può fare facilmente oggi perché buona parte del debito è detenuto dalla Banca d'Italia, vuoi sapere che con il manovre del quantity leasing è stata creata un'enorme quantità di denaro che è stato utilizzato per comprare i titoli di Stato. Attualmente la Banca d'Italia detiene 460 miliardi di debito pubblico italiano, 460 è circa il 20% di tutto il nostro debito. Ora, che senso già che lo Stato italiano sia indebitato nei confronti della sua Banca centrale? Che non è la sua. No, non è vero, la Banca centrale è partecipata da banche private, ma in realtà è sempre un'istituzione di diritto pubblico, tant'è che l'utile della Banca d'Italia viene girato alla fine dello Stato. Se voi andate a vedere il bilancio ultimo della Banca d'Italia, il 90% dell'utile della Banca d'Italia viene girando comunque lo Stato. Quindi non ha l'assurdità che noi paghiamo gli interessi sul debito alla Banca d'Italia che poi ce li ridà indietro alla fine anno attraverso il dividendo degli utili. Non ha nessun senso, basterebbe consolidare questi titoli, renderli debito irredimibile, cioè non restituire più il capitale, lasciarli lì nel bilancio della Banca d'Italia, in modo tale che non creino più nessun problema, perché attualmente ritornano sui mercati per poi dover essere ricomprati continuamente. La Banca d'Italia però, giustamente, siccome ha questa anomalia che pur essendo un'istituzione di diritto pubblico è partecipata da banche private, che quindi in qualche modo la controllano, deve tornare completamente pubblica. Su questo sono perfettamente d'accordo. Con queste quattro manovre, dopo possiamo mettersi a discutere in Europa, perché a quel punto abbiamo la possibilità e la capacità di rimettere in moto l'economia senza nessun problema. Alla fine, in realtà, bisognerebbe fare una riforma monetaria completamente nuova, perché attualmente quelli che sono i tre poteri dello Stato, che sono in mano, potere esecutivo al governo, potere legislativo al Parlamento, potere giudiziario alla magistratura, non sono gli unici poteri che esistono, perché in realtà il potere più importante è quello monetario, che attualmente non si sa di chi è. Paradossalmente nessuno discute di chi è il potere monetario, perché apparentemente è ancora in mano lo Stato, perché è lui che ha la sonorità monetaria e percepisce il signoraggio, ma nella sostanza, essendo la stragrande maggioranza della moneta che usiamo, creata dalle banche private, noi ci ritroviamo a che il potere monetario in realtà è stato trasferito al sistema bancario privato. Quindi bisognerà trovare la maniera di creare un organismo nuovo, che potrebbe essere o l'attuale Ministero del Tesoro o un nuovo ministero che sia deputato alla creazione del denaro per conto dei cittadini e quindi del popolo italiano.